Dov'è Nannio, vieni un po' su Discord Omodashi, dai al volo Se entra StudiTime e Federico Bandoni entro anch'io Fli credo che abbia il permesso per entrare, senza problemi StudiTime non ho di sicuro Se ci hai fatto il primo appuntamento uno studio No, 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 no Abbiamo fatto su una live insieme ma siamo amici, Giulio Ma noi mi mandiamo dalla foto del cazzo, mi pare, anche Sì, perché siamo amici Però tra amici non credo si mandi dalla foto del cazzo, eh Quindi non sono tuo amico Me l'hanno detto anche i carabinieri, però Shamsi, Shamsi, passami il tuo contatto Discord Che ti va ad aggiungere a Discord, dai Shamsi, se fai un TikTok dove inclui la parola gay Ti do 30 euro No, io gli ho detto più o più se è un pedofilo, gli ho suggerito Però no, tutto fa, è strano, eh Potrei fare io Per scherzare Però sposto io, dì di andare a vocale pubblico No, mettila nel canale con Doflamingo No, no, meglio no, dai Sennò poi mi manda le foto spermate Nel senso Allora Beh, eccola Il mio test deve essere flammato alle 3 di notte Godo Ciao, come stai? Ciao Giulia Bene, voi Ma non sei Alita su microfoni? Dove sei? Sono in camera Ma non fa ASMR Cosa stai studiando in questo periodo? Robotica in realtà Sì, vabbè Ah, io giuro Sì, sì A che anno sei? Eh, a che anno sono? Ma è finta No Fa RP Sono già laureata, ho già il master Lei c'ha il master Ah, quindi c'è a te che c'è, non ho capito, fai vinta di leggere No, allora lei fa RP dello studio per accompagnare le persone che studiano RP dello studio Ma anche noi ci ha fatto una live su questo Ah, sì Hai visto che oggi Zeus Parkour ha decretato l'animale più forte del mondo? Oh, qual'era? Eh, ha vinto il rinoceronte Ah Ah Un l'epopotamo? Eh, io ci ho sperato Vabbè, ma come ha fatto a vincere il rinoceronte e poi sono tre nel mondo? Eh, ma Vabbè, ma che vuol dire, ma quelli forti A legge non è vero Perché poi hanno un branco, cioè, andranno anche in branco, ma non è quello il punto No, ma la lepre e l'anaconda hanno avuto le match-up difficili, non è per quello Valtiero Cannarzi mi fa gli auguri di buon anno, attenzione Oh, alle 2.52 del 20 gennaio Vabbè, grazie a Mr. Cico e a Pippo d'Arculo per l'abbracamento Ti ho mai pippato d'Arculo, Giulia? Sì, tutti i giorni Codo Dal tuo stesso o da altri? Come fai? De che azzazzo è? De la ciafro bocine Giulia, qual è il tuo prossimo progetto? Fare revisione di curriculum, live Senti, ma ti ha mai scritto qualcuno per dirti Guarda Giulia, in realtà io non uso le tue live per studiare, ma per masturbarmi? Sì, al pieno Ok Vuoi fare il nome di queste persone per favore, grazie Boh, non mi ricordo il nome Grazie Utenti strani in chat Tra cui i nani Non sono io Eh, quello alla base La denuncia da che tizio qualunque pubblicamente Ma te cosa faresti se tipo Se finisci a sapere che effettivamente sono io davvero? Io mi rivolgerei a Peppo Ma non mi stupirei E Giulia cosa faresti se tipo mi inizi a sapere che un tuo amico fa i country boots? Sicuramente ce ne sono di amici che lo fanno Sì? T'ho amici tua? Sì Che non conosce, che non so, ma sicuro Ma te e Giulia ti hanno mai chiesto un autografo? In realtà sì, a caso, alla Games Week Sì Ma saresti tipo invidiosa se venissi a sapere che C'è bisogno di dire No, no, stavo pensando una cosa mia Cioè se tipo Hai dieci amiche Ragazzi, a parte gli scherzi Mike of Desert sta preparando le nuove sorprese con Sabaku 4.0 Vai pure, vai, vai, vai Ah, ok, grazie Cioè, saresti tipo invidiosa se venissi a sapere che Otto delle tue nove amiche Gli hanno fatto un contribute a te, no? Ma che parola Mi sono tantissime Cioè, secondo me, io sarei un pochino geloso Nel senso, perché Tutte l'ora è a me, no? Nanni, vuoi un cambio in tribute? No Ma, scusa, te come donna come faresti? Dovresti squirtare su le foto di Nanni? Ah, esatto Strano È scomodo Ma Giulia Premi, ma sono la sega Non so nemmeno Aspetta Ma Giulia Premi, siamo sicuri che sia in Italia? Perché sai, lei ama viaggiare Lei è una nomade moderna Lei viaggiettino in Siria, Giulia Sì, sì Piappia una bella bomba in bocca Piappia Beh, sì, riduca solo a quello Il paese, però Buona possibilità Così Bimbi è bella la Siria Ah È arrivato il mio silozzo Passami Guarda, aspetta Ti passo una gif per far capire che c'è ancora il tuo account Passami il tuo contatto Discord, dai Dai, passo una gif Ciao Dario Ciao Giulia Ciao Giulia Ah, ma ce la viene ancora l'accesso? Aspetta che ti blocco Ciao Giulia Eh, vabbè Vabbè Vabbè, comunque la gif di Poli guarda lo stesso Sto passando la gif di Poli Ciao a tutti ragazzi Passa anche a me la gif di Poli Così la può vedere Non la conosco, forse No, questa è recente, diciamo Però non novissima Penso sia Poli Beh, dai No, in realtà vado con un tour organizzato perché non posso andare in Siria Assurdo In Siria da sola Ma con la scorta? Quindi potrebbe essere No, no, non con la scorta Però sai Grazie Non puoi andare a caso Ti devono preparare tutti i permessi Potrei avere una guida del genere Cosa facci con la Siria? A fine marzo in realtà Quindi manca ancora un po' di tempo Poi ci vediamo in Giappone, Darione Guarda, purtroppo c'è un problema Cosa? Posso staccare il gruppo, è proprio serratissimo No, ti verrò a cercare io Io se ti avvicini a più di 10 km ti sparo C'è anche il mangakoma in Giappone Il mangakoma mi strappa un po' il cazzon Perché io ho bisogno di concentrarmi molto sul tour Dai Ma scusa, quando è che sei in Giappone? Qua a fine gennaio parto Ma io non parto mica a fine gennaio Vabbè, ma tu sarai Vai subito su in Hokkaido Sì Io arrivo dopo Dove? A Sapporo No, dai Ma cosa vuol dire questa cosa? Ma Sapporo Eh, c'è il festival della neve Beh, ma ci vai anche te per quello Ma ho capito Ma che cosa ci vieni a fare? Per fare i reel Che cazzo ci vieni a fare? Ma che reel, Dio povero Cioè, quell'altro co***o in Shamsi che fa i reel Cioè Per scopare 10 volte in più delle 20 Ma cosa ci guadagna, sì Ma cosa ci guadagna? Cioè Vabbè, tanto la figa, no? No, Dario Non dire forse informazioni No, tu il torto No, io so tutto Altre che false No, non dire forse informazioni perché è un'assolutamente vera Ma vai a fare in culo Quando ci sei te a Sapporo Che forse ho la fortuna di andare a Tokyo mentre ti arrivi Il sei No, no, purtroppo sono a Sapporo davvero Certo, perché è il primo giorno del festival Ma te con chi sei? Te con chi sei? Sei da sola? Sono Sip Per cazzi miei sono da sola Ah, meno male No, no, col tour dei Simp No, è perché non mi sarei accollato Ma che Simp? No, cioè con i clienti Cioè se ci sei da sola No, ma è perché i tuoi comunque non sono Simp Ehi! Lasciali stare, hai capito? Va bene, va bene No, no Tranquillo Ok Non dirò assolutamente nulla De Pinzo stai zitto Terrosi perché non hai i soldi Per venire Non so se perché sei napoletano o meno Non è abbastanza Simp Da non spendere tutti quei soldi Per andare con te Non mi far parlare Guarda, non mi far parlare Non mi far parlare su Pinzo Fatto sta Che A me va bene Se ci sei solo te va bene Ci mancherebbe altro Ma non ho pari Ti pare che vengo col tour Ma Che ne so Ma poi se lo sai Ma ti pare che io mi posso avvicinare ai tuoi tour Firmati Da una grandissima azienda Assurda Ehi! Non di Oh vabbè Ora sono cazzi vostri Dai Ma che ne so Cosa c'entro io Cosa c'entro io in questa cosa Non mi avvicinerò mai A nulla del genere Ovviamente Ma poi comunque so io Cioè Non Non avvicinarmi a persone Che ti guardano Che ti stanno antipatiche Io parlo per conto mio E infatti ti ho detto Che ti vengo a trovare Ho fatto un po' più Barrazionale Non ha senso Sei un po' ubriaco Ho bevuto una boccia D'amaro siciliano Di olodi In quel pelato Non si nota Fatto sta che Non mi accomunare Lo sai che non faccio Non faccio squadre Io faccio come mi veramente Ma lo so Lo so benissimo Ecco E allora basta Se vuoi venire Di voglia Ci manche Ma cene Bevute Quello che ti pare Giulio Zero problemi Veramente Se ci sono i simp Non toccare Giulia La carettiamo noi No Però se c'è lei da solo Va bene Io dico Lo che penso Va bene Va bene Ci saranno Ci saranno i tuoi Ci saranno i tuoi Oh Dario Ma Ma Che action figure Devo comprare No parlano così Cretina Allora Sì allora Dove devo andare Allora testa di cazzo Io non ho persone Che contattano in privato Su Instagram Altre persone Per dire Hai fatto una battuta Su Giulia Non ti alzare mai più Perché io ho ricevuto Messaggi di genere Amici Eh ma Che cazzo Ne posso farci Io mica glielo vado a dire Non è senso Ma poi non lo sai Ma non dire queste cazzate Però sui miei Lo sai che sono Dementi Sì Certo Vincent È una prova lampante Ma Ma Comunque non sono così Noi parlano di action figure Tutto il giorno No Io Cioè Sono stata nel tuo Telegram Posso proprio confermarlo Parlano solo di figa Nel mio Telegram E basta ultimamente Da otto mesi Che parlano di figa Assurdo E le donne parlano di cazzi O di figa anch'esse C'è una cosa assurda Ma allora Ne vale la pena adesso Ragazzi Punto esclamativo Telegram E comunque Quale si parla di figa Al 60% È Gianna Ortega Cioè Ah vabbè Ovvio Vabbè Mamma mia Normi totali Cioè Vabbè Normi totali Ti volevi fare Agnese Che è La versione light Di Gianna Ortega Quindi non ha senso Parlare di questo Vabbè Allora ti stai dando Del normi Perché sei sposato Con Agnese No Semplicemente Sei te che sei ipocrita Non io che sono normi O penso però Non penso Comunque Agnese La proposta rimane Sempre la stessa Non parlare Di queste cose Giulia Stai stagionando Mi sa eh Non si sta neanche Facendo un confronto Tra i piedi Degli ospiti Ma non c'entra nulla Cioè che Agnese Maggiore 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 Di Gianna Ortega Cento per cento Però dico che È lo stesso genere Si però è dito light Versione light No light Luce perché Agnese È biondina Carichina Si è la versione angelo Mi pare messicana No? Se non erro Comunque C'ha origini hispaniche Quindi è tutta mora L'occhi neri Tutto il contrario Proprio Negativo Una volta Gianna Ortega Ha detto De più forza Non penso Però Ho vinto Il Golden Globe Eh per forza Chamsi Ti viene a comprare Un evento Il Lore Mosca Ma quando è il sabato? Il sabato sì Ma dov'è sta villa? Boh è Sarà piena Sì Ma è pieno Sì Sì Cioè I cazzi Mi scagliano A col tir E le manano da avanti Ma quando? Io ti ho detto Cosa ne pensi In anni In chat Con l'avorto E ti mi hai detto No no Dario sono fidanzata No ma quello lo dicono Per allontanarmi Ah Grazie Sare Vabbè Ero con Kertz Testimone E Barabone Quindi è possibile Smentire Ah ok Non ho capito Cioè Nanni ci sta ancora Provando con Giulia Nanni ci prova Con tutte Ma non è vero No no Con me ha smesso Ma non è vero Anche con me ha smesso Eh ci credo Nanni prova con me C'era Wipe di Tarco Va a fare Io ci proverei anche Shamsi Però Se vuoi Ti sciucce l'uccello Se si fa un TikTok insieme Dove l'unico si dice È gay E basta È solo quello Cioè gay Prima c'ho da Fappo Ovvero Sono un pedofilo Quello verrà Incredibile Ti ho dato Delle robe Idee impazzesche Comunque Ecco le salvetti Giulia E dove minchia è Con le salvetti Provincia di Vabbè Giulia Ah minchia è inculatissimo È inculatissimo Dove stai? A Verona A Verona Sono tre ore Cioè Easy In Parisi Mi sembra E mezza al massimo Nanni mio Eccola Deve riportare No Come no No Dai Il cazzo vuoi No Ho paura Vabbè Dormi da Tartagnan No no Peggio dell'asa Di Nanni D'Artagnan Cioè Casabria è Linda Punito E che porti Appunto Detto è meglio Mia peggio No comunque Giulia non ti ospiterò A casa mia Ok va bene Perché no Perché sennò Poi si ritornerò Voci strano Perché fanno Il wipe di tar No è perché Ci rimane male Se lei poi Non vuole fare Sesso Oh basta Giulia mamma mia Mamma mia Giulia quanto la cringi Boia Oggi è voi Eh proprio di cringiarla Ciacco col col Via Dai mi fa parlare Dai 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 Parla 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 Non voglio parlare Per gli zoom Veramente Dario Solo nel telegram Non si parla di figa Ora perché vi rispettano Ma si parla Giappone Prendiamo un post Giulia premi Sul Giappone No Sì sì Vabbè Cosa è cercata Allora Giulia premi L'hai già fatto il discorso del post Che è troppo lungo Del Giappone Non puoi riparlo Lo rifaccio e come Lo leggo in diretta No dai Quella è cringe Non lo puoi fare No Ah sì è Aspetta che lo trovo Ah perché tu Ma perché tu Lo leggerai Federico Bandoni che brucia Il tasto del like A tutti i post Ma che Che free wifi Ricorda a tutti Lasciamo perdere Idea per un weekend Islanda a low cost Vabbè solite robe Aspetta Lei che corre Lei tra i templi Smettila Dario Basta Mi sto limitando A vedere le cose pubbliche Non è che Non lo trovo più Il post incredibile Sul Giappone Porco Eh peccato Eh ma non lo trovo Fidati Vabbè Giuda ma te avevi OnlyFans Io No Vabbè Ma poi che domanda È Shamsi Cioè nemmeno io Che cosa hai visto No la mia C'è una mia grande amica Che ha OnlyFans Però Ah Mia sorella Vicky Mia sorella Francesca Sì Ok ecco l'ho trovato No dai Dai basta Vabbè ma Ci hai messo troppo tempo Ormai È bello È bello È bello È bello In che senso è bello È bello il poster Lo voglio leggere Perché Chiamano il Giappone con me Oì Si rispecchia Oh Cosa stai dicendo Fida io mi sono rispecchiato tantissimo Nelle tue parole Ma non è vero Hai fatto subito La storia facendo Il coglione Ah ora Ah Però Vabbè dai Fai finta di nulla Però le vedi le cose Ma cosa ti dico Ma potevi rire No a me avrebbe fatto piacere Ho riso Ho riso Ho capito ma scrivilo che ridi Cioè vabbè Vabbè Cioè se te lo tieni per te Che cazzo di gusto Cioè vabbè Mi vuole dare soddisfazione Guarda che non ho bisogno di queste cose Vabbè Tu hai bisogno della soddisfazione Che io lo guardo No mi faceva piacere Vabbè Tre anni Ci sono voluti per tornare Ma vai dura tantissimo Ehi Sentiamo Sentiamo Brava Sono cambiata così tanto Che io stessa Non mi riconoscerei Se potessi incontrare La Giulia di allora Una cosa però è rimasta la stessa Salva Un motivo che mi ha tenuta lucida Anche in momenti più bui E sono stati tanti Di questo periodo Il mio pensiero fisso Era di poter Vabbè non c'ho più voglia Comunque leggere Grazie al cielo È del È del 17 ottobre Non c'ho più 2022 Momento Blur Ma è arrivato Blur è Eccolo Blur Chi è sta gnocca che parla Non ha detto questa cosa Sì Ah gnocca Ma scusa Scusa Ciamo Ma come fai Come fai a dire che sono gnocca Scusami Io penso Dalla voce dice Grazie Eh c'ha delle foto sulle dure incredibili Basta Il titolo al compleanno evento Vieno al compleanno evento Scoppia tutto Vieni al compleanno evento Ma non sai nemmeno Che può far straridere il compleanno evento Sì lo so Lo so Ci stai Voglio avere questa dicitura C'è anche la locarnina Te la mandiamo in privato Blur Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti